Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Questa domenica inizia un nuovo anno liturgico e con esso il tempo di avvento, un tempo di grazia e di risveglio del cuore per prepararci ad accogliere il Signore che viene. Celebreremo la sua prima venuta nella carne, con il Santo Natale. Attendiamo la sua venuta nella gloria, alla fine dei tempi, e attendiamo quotidianamente le sue visite, l'incontro con Lui nelle concrete situazioni di ogni giorno. Il Vangelo di domenica potremmo scomporlo in due parti, dalle quali prendiamo due chiavi preziose per vivere bene sia l'avvento sia la nostra vita. Primo, avvento come tempo di speranza. Gesù con un linguaggio apocalittico parla degli sconvolgimenti cosmici che avverranno alla fine dei tempi. Analogamente a quanto visto due settimane fa, stavolta siamo nella prospettiva di Luca. Gesù parla di sconvolgimenti sulla terra, nel mare, nei cieli, davanti ai quali i popoli proveranno paura, ansia. Ma qual è la chiave di speranza che ci viene consegnata? Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire con potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, sollevate il capo. La vostra liberazione è vicina. Ecco il punto, miei cari. Alzare il capo. Non si tratta di un esercizio per la cervicale, ma di un atteggiamento esistenziale. Non ripiegarci su noi stessi, sulle nostre fatiche, non rinchiuderci nella tristezza o rinserrarci nella paura perché il Signore, proprio nei momenti più difficili, viene a visitarci. Si tratta di coltivare la certezza che nelle più grandi difficoltà Egli interviene per liberarci da ciò che ci opprime, da ciò che ci schiaccia, da ciò che più ci spaventa. Si tratta allora di guardare al Signore, di invocare la sua grazia, di attendere le sue visite e di non misurare le cose difficili che viviamo con le nostre povere forze, ma con la forza che Lui ci dona. Tutto posso in colui che mi dà la forza, ha detto San Paolo. Vedete, miei cari, alla luce di ciò è bene chiederci come viviamo la nostra vita, come affrontiamo le difficoltà. Uno dei problemi più profondi per il quale tanti sono bloccati nella paura è che non vivono le cose da figli, cioè non le vivono in una profonda relazione con Dio Padre perché in fondo pensano di farcela da soli o comunque hanno fatto di questa vita l'assoluto. Perciò assolutizzano quel problema, non riescono a vedere oltre quella difficoltà, pensando magari radicalmente che con la morte si chiude tutto. Il Vangelo invece afferma l'opposto. Ricordati, non sei solo, non sei dimenticato. Il Signore viene proprio lì nei momenti più difficili, interviene per risollevarti, per rialzarti, per liberarti. Dunque non accasciarti, ma alza il capo perché la liberazione è vicina, è a portata di mano, è prossima e Lui sta operando per te. Eccomi cari, l'avvento è credere in questa bellezza e attendere la sua venuta, attendere le sue visite, le sue consolazioni, le sue grazie. Perciò può farci bene pensare a ciò che in questo momento ci fa soffrire. Può essere una malattia, una tribolazione spirituale, una situazione complessa da affrontare. Ecco, anziché ripiegarci su noi stessi, preghiamo, mettiamo questa situazione davanti al Signore, chiediamo il suo intervento, la sua luce, la sua forza e ripetiamo nel cuore le sue parole. Risollevate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Ora amici cari, la seconda chiave che il Vangelo ci consegna potremmo dire che è l'avvento come tempo di conversione. Ecco, se da una parte l'avvento è un tempo in cui attendere l'amato, attendere il ritorno del Signore, attendere le sue visite, al contempo l'avvento è un tempo nel quale tendere verso il Signore, coltivando l'interiorità, dandoci da fare per vivere bene. Perciò Gesù innanzitutto ci mette in guardia da alcuni atteggiamenti pericolosi dai quali guardarci, che appesantiscono il nostro cuore e non ci rendono pronti, non solo all'incontro con Gesù nell'ora della morte, ma anche a vivere bene il nostro qui ed ora. Gesù dice, state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Anzitutto abbiamo le dissipazioni. Dissipare ha a che fare con il disperdere. Ecco, noi possiamo vivere dispersi in tante cose inutili, che ci tolgono energia vitale e tempo prezioso. Possono essere anche cose potenzialmente buone, ma non essenziali. C'è qui un problema di discernimento e di priorità, non solo distinguere il bene dal male, ma il bene da ciò che è bene per me, il bene dal meglio, potremmo dire, l'essenziale da ciò che essenziale non è. Non solo, ci sono poi le ubriachezze. Oltre il riferimento all'alcolismo, purtroppo attanaglia, la vita di molti, abbiamo qui il riferimento a tutto ciò che ci dà sì piacere, ma poi intontimento. Noi possiamo vivere intontiti da cose che ci estraneano dalla realtà. Forse un po' tutti noi abbiamo ipotetiche zone franche, dove cerchiamo rifugio dalle fatiche del quotidiano, che a volte ci attanagliano. Pensate ad esempio ad un uso distorto del mondo digitale o videoludico, o a ogni piacere smodato al quale chiedo magari un momento di alleggerimento della realtà, ma che invece mi fa semplicemente fuggire dalla realtà, restituendomi ad essa più assente. Infine, miei cari, abbiamo gli affanni della vita. Tutti noi abbiamo scadenze che si accumulano, difficoltà che si moltiplicano, problemi delle persone che si accavallano. Ma qual è il problema? E vivere tutto ciò dimentichi della provvidenza di Dio. Farci prendere dalle situazioni al punto da non vedere altro che quei problemi. Mattina, pomeriggio, sere, notte, guardo solo a quel problema. O, peggio ancora, voglio sempre di più, corro sempre. La domanda è, ma verso dove? E l'anima, dove la sto lasciando? Chiediamoci allora, in che cosa è che mi sto disperdendo, che sto dilapidando il tempo che mi è donato, le mie energie? A cosa chiedo piacere? Che in realtà mi intontisce e mi estranea dalla realtà? E che cosa, in questo momento, mi sta affannando al punto da togliermi la gioia di vivere e di amare? Ora, miei cari, se da una parte Gesù mette luce questi tre atteggiamenti negativi da evitare, dall'altra ce ne consegna due positivi. Vegliate in ogni momento pregando. In questa vigilanza, cioè in questa attenzione, in questo essere presenti a noi stessi, intrisa di preghiera, di orazione, ci è promessa la forza per vincere ogni inquietudine e perseverare sino alla fine nella speranza. Vegliare, cioè essere desti, presenti a noi stessi, attenti a vivere bene il tempo presente. Non si tratta, miei cari, di vivere nevroticamente, ma assaporare attimo per attimo, cercando in ogni cosa il bene, la volontà di Dio, che sia pregare, lavorare, parlare con qualcuno, fare le pulizie, rilassarsi. La persona che veglia è la persona che sta attenta. Di contro abbiamo la persona che dorme, la persona distratta, disattenta o attenta a ciò che non vale. Gli sa quante volte ci hanno detto, ma che fai, dormi? Ma dov'eri quando è accaduta quella cosa? Ecco, miei cari, vegliare. Vegliare, però, pregando, cioè mantenendo un cuore rivolto a Dio, un cuore che lo cerca, un cuore che lo desidera, un cuore che lo ascolta, un cuore che lo invoca. Ecco la ricetta, miei cari, che Gesù ci offre per vivere bene la nostra vita e questo tempo di avvento, perché possa aiutarci davvero ad attendere il Signore e attendere verso il Signore, verso quella pienezza che Lui è e propone a coloro che lo amano. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!